Alimentari, abbigliamento ed elettronica hanno fatto segnare un miglioramento nella competitività rispetto alla media della manifattura italiana sia nel 2018 che nel 2019, lo rivela l'Istat. All'opposto, tra i settori per i quali peggiora ulteriormente la condizione di relativa difficoltà competitiva, si segnalano le attività del tessile, della gomma e del legno. Nel corso del 2019 le imprese hanno fronteggiato una situazione di stagnazione della domanda. Tuttavia, nonostante il rallentamento dell'attività, le donazioni di capitale e di lavoro hanno mantenuto una tendenza nel complesso favorevole con una dinamica di poco inferiore a quella del 2018. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS